SACRI! Ah... 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 Ah! SACRI! Porca miseria! Dico lavoro, dai! Va bene, va bene, ok! Ah! No! Nooo! SACRI! Porca miseria! Dai, mi perdoni! Vai, dai! Per favore, dai! Non rompere, dai! Allora, cosa? Mata! Nooo! Dai! Nuova challenge! Dobbiamo riuscire a inserire la monetina dalla testa dentro al cono! Il cono sarà dentro ai pantaloni! Vi faccio vedere come si fa! Il cono dentro ai pantaloni! Monetina sulla testa! Ehm, così è facile! Provaci! Io ho una tecnica! Vedrai se tu ci riesci! Vai! Nooo! Nooo! SACRI! Porca miseria! Che si simula! Che si simula! Grazie papà! Vai! Nooo! SACRI! SACRI! Ma guarda miseria! Non è possibile! Non è possibile! Guarda qua! Guarda miseria! SACRI! 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 Ma guarda qui! SACRI! 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 Auguri! Cos'è sta roba? Ciao! Auguri per la festa del papà! Ah! Bello! Bello! Eh! Guarda qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Che bello che sei! Bello! 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 Lo togliamo questo pelo così bianco un po' vecchio! Nooo! Eh! Nooo! Sì! Mamma! Nooo! Nooo! Che mi devo concentrare! Sei ammaledetta! Il mio pelo! Ti sei? Piano! Ehi! Ah! Ah! Oh! 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 Eh! Aspetta! Ah! C'è dolore! Ma vieni che la mamma ci ha fatto la torta gelato! Guarda ci fa più maffi in gelato la mamma! Con una forchetta! Sì perché è gelato! Vieni ancora poi Un genio Un genio Maledetta Che scivolo Allora babbo nuova challenge Smarties Devi stendere il braccio Chiudere gli occhi e alzare Chiudi Nessuna Allora chiudi gli occhi Ok Stendi il braccio Sì Ma guarda Che schifo Adesso vi faccio vedere Cosa ho imparato su internet Uovo bottiglia come infilare l'uovo dentro la bottiglia Ci sei? Metto qui l'uovo In bilico Uno Due Tre Voilà Dai Sì Ma dai Mettate tutto nel naso Sì Sì Dai Ma che hai fatto l'uovo Ma che hai fatto l'uovo Babbo prendi il volo Nooo Sono qui Ma dai Ma che è Ma porca miseria Guarda qua Porca miseria Guarda Ma? Ma è ko? Lo a few minutes later nooo c'è chi? cosa stai facendo? scusa babbo ma che schifo dai nooo ma dai c'è chi? ma guarda chi? dai ma cosa stai facendo? babbo scusa ma cosa scusa? non è possibile dai fai schifo fai schifo nuova challenge con mio padre chi finisce per prima il latte vince sei pronto? dai finco io sicuro 3 2 1 via vai vai guarda qui guarda qui guarda qua che casino che hai fatto? dai te lo tolgo dai ma tu l'hai fatto perdere ma hai fatto cacchì allora ora qua cacchino cacchì allora cacchì allora basta basta cacchino macardia allora Ma affacciati un attimo che ti devo dare una roba! Affacciati un attimo che ti devo dare una roba! Eh, affacciati un attimo! Nooo! 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 Allora! Giorgini, ma porca miseria! Anche te! Anche te, Samana! Porca miseria! Ancora! Anche tu gusto me la pagata! Deixo caro, va lascar!